E' molto tragico. Che cosa può essere stato a determinare proprio questa caduta, crollo delle forze? A dire tutte queste situazioni, anche precedenti, non so proprio niente, quindi non vi posso dare nessuna notizia. Mi dispiace. Va bene, grazie. Quale è una cosa che le hanno detto familiare? Famiglialmente le persone stanno proprio molto giù, comunque. Mi dispiace, non posso dire più niente. Non riesco a dire più altre cose.